Non ci sono sedute di yoga o corsi zen capaci di darci libertà, solo lo Spirito Santo può operare in questo orizzonte. Lo ha chiarito Papa Francesco celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta. Riflettendo sulle letture del giorno, il Pontefice ha invitato i presenti a farsi docili ai progetti di Dio, l'unico capace di renderci liberi. Non di rado, infatti, il cuore dell'uomo si indurisce con il dolore, le delusioni e l'insicurezza. Il cuore, quando si indurisce, non è libero e se non è libero è perché non ama. Così finiva Giovanni Apostolo nella prima lettura. L'amore perfetto scaccia il timore, nell'amore non c'è timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Non è libero, sempre ha il timore di che succeda qualcosa dolorosa, triste, ma che mi faccia andare male nella vita o rischiare la salvezza eterna. Ma tante immaginazioni, perché non ama. Chi non ama non è libero. Il loro cuore era indurito, perché ancora non avevano imparato a amare. Chi non ama non è libero.